sebastian soleb è intornato alla in casa trentino volley dopo un'estate molto intensa con la nazionale argentina è stata un'estate davvero positiva sotto tanti punti di vista tu come te la sei vissuta grazie sì l'ho vissuta al 100 per cento abbiamo fatto buon lavoro di squadra con la nostra nazionale siamo riusciti a trovare un buon ritmo di gioco a fare anche quello che diceva velasco di avere il ritmo di difesa contrattacco attacco un po di tutto insomma siamo riusciti a fare il lavoro bene avete vinto il vostro girono olimpico l'unico peccato è stato incrociare il brasile presto cioè nei quarti di finale sì è stato un peccato perché ci potevamo incontrare anche con il canada che magari era un rivale più semplice poi diciamo che c'era anche italia c'era stati uniti abbiamo peccato il brasile ma gli altri anche erano forte poi abbiamo fatto il nostro lavoro ci abbiamo messo tutto in campo durante la partita e ci è mancato poco adesso inizia una nuova stagione con trento con trentino volley una stagione dove sono tante cose sono rimaste uguali rispetto all'anno scorso parlando della squadra il grosso cambiamento è stato in panchina con il cambio di allenatore se la squadra è quasi uguale è arrivato di anche sappiamo che è una storia molto bella con trento sicuramente sarà un punto forte nostro di squadra in attacco e poi è cambiato anche allenatore che è arrivato angelo che sappiamo che ci può dare tantissimo come allenatore e quindi siamo pronti ad ascoltare lui a fare un buon lavoro cambia poco la squadra cambiano di niente gli obiettivi c'è l'obiettivo di fare comunque una buona stagione e provare a lottare su tutti i fronti si obiettivi sono sempre quelli cercare di vincere spero di che siamo speriamo arrivare lo più alto possibile noi come ho fatto sempre tutti gli anni lavoriamo al 100 per cento per essere pronto per il playoff per cercare di essere lo più alto ormai diverse stagioni che giochi qua trento ti senti un pezzo importante sia in campo che dello spogliatoio di questa squadra sì certo mi sento comodo più che altro sono contento di essere qua sempre mi trovo bene quindi è meglio per me perché posso giocare un buon livello senza farmi problemi